E' in gioco, pensate, una finale del campionato del mondo. Paolo Virzin, Notti magiche, allora parlavi prima della morte e della resurrezione del cinema italiano. Il cinema, quello degli anni 90, che è protagonista, diciamo, del tuo film, in che fase era e in che fase è quella di oggi? Non è finito che non era agli anni 90, ma era il 1990, cioè la fine degli anni 80, semmai. Noi abbiamo pensato più agli anni 80, non agli anni 90. E poi, in effetti, raccontiamo di una stagione che era già bella che è finita. Quando sono arrivato a Roma, il cinema italiano stava chiudendo i battenti, se ne parlava come del caro estinto. E' interessante che questo tema si riproponga perennemente nei lustri avvenire e che se ne discuta ancora oggi come un tema d'attualità. Mi ricordo, faceva molto ridere, cos'era? Era una vita difficile di Norisi. A un certo punto, stiamo parlando quindi degli anni 60, tecnicamente il periodo più florido del cinema italiano. A un certo punto, Sordi, va a fare la comparsa a Cinecittà e si vede in un angolo Gaussman, che sta recitando, perché fece un cameo. E stanno facendo un'intervista e lui dice che la intervista è sul che tema? La crisi del cinema italiano. Però, insomma, è anche un atto d'amore questo film, no? Per il cinema. Ma certo, tutte e due le cose. Un atto di amore e anche di smitizzazione, di burla. Però, peraltro, è una delle cose che ci hanno insegnato proprio i grandi maestri di quella stagione. Cioè, anche a ridere di ciò che si ama, a prenderlo in giro, a svelare il lato buffo, ridicolo. Troviamo infatti tantissima ironia, sia appunto nei grandi maestri, nei grandi autori che sono nel tuo film, ma anche per esempio nei premi cinematografici, no? C'è il premio Solinas, cioè è quasi tutta una risata. Il premio Solinas è stato veramente importante per determinare in quegli anni un'inversione di tendenza e far accedere nuovi talenti, nuove linfe vitali a un cinema che stava spegnendosi, in realtà. Io non ho mai partecipato come concorrente, ma come giurato qualche anno dopo. E sì, noi abbiamo provato a raccontare tre giovani aspiranti sceneggiatori immaginari e allo stesso tempo li abbiamo nutriti di elementi, di storie, di vicende che conoscevamo, che addirittura ci sono capitate. Senti, a proposito di questi tre giovani protagonisti, torni a fare il pigmalione. Insomma, devono molto a te, no? Personaggi come Corrado Fortuna, Matilde Gioli. Di questi ragazzi cosa ne farai? Che cosa ne uscirà di loro tre? Beh, loro innanzitutto danno molto a me in termini di energia, portano in scena la loro età e quindi il fervore, gli ormoni, la vitalità, quella passione grazie al quale appunto noi attraversiamo il racconto in questo mondo apparentemente impenetrabile, insomma, di divinità inarrivabili che poi si rivelano anche strazianti. Sono tre talenti, tutti e tre, sono bellissimi da guardare, buffi. Insieme mi sembrano un terzetto che mi fa venire voglia di ascoltare le loro storie. Credo che faranno, combineranno delle cose notevoli, però gli faccio tanti auguri. Però tu non li vorrei paragonare ad altri, diciamo, che hanno lavorato nei miei film, perché poi magari è capitato che qualcuno ha avuto fortuna, qualcuno magari meno. Ognuno ha la sua storia, vedremo cosa combineranno a loro, sono curioso. Ce n'è uno che ti somiglia un po', almeno perché è toscano, c'è qualcosa che ti ricorda te da ragazzo e soprattutto c'è parecchio di autobiografico in questo film oppure no? Ma senz'altro in questo film c'è il tentativo di rievocare una serie di emozioni e di atmosfere che mi sono rimaste nel cuore in quella stagione della vita e della mia esperienza. Quando ho cominciato a incontrare per la prima volta, da vicino, quelli che per me erano dei miti e a Luciano ho regalato un paio di episodi che mi sono capitati, ma tutto lì, infine. Forse uno spirito, un sentimento che mi assomigliava, cioè di riverenza e di devozione di riverenza allo stesso tempo. E tuttavia, come racconta anche l'esito della storia, i nostri destini sono diversi. Volete fare gli sceneggiatori ma non sapete fare gli spettatori? Eccoci qua, i tre giovani, giovanissimi protagonisti di Notti Magiche e di Virzi. Intanto vi chiedo, i vostri personaggi hanno la passione per il cinema, anche se loro sono degli sceneggiatori e voi degli attori o quantomeno, insomma, loro aspiranti tali. Cosa avete in comune con loro e che cosa in ognuno di loro, quanto di voi riconoscete? Ma di sicuro la passione, perché senza la passione probabilmente non l'avremmo potuto fare. E poi la passione è anche un po' insensolato, quella che ci ha acceso per la fortuna di essere lì, quella per il cinema chiaramente che ci è servita come transfert per l'interpretazione. E poi, boh, la passione in generale per tutto quello che ci circonda, non lo so. E poi la curiosità. Diciamo che Eugenia è sicuramente un personaggio molto insicuro che appunto anche a volte si nasconde, ha paura di alcune situazioni, però questo non le impedisce di vedere appunto queste situazioni con un occhio molto curioso che penso sia anche il mio. Sicuramente la curiosità è quella che poi ti spinge a voler scoprire sempre di più e quindi poi a finire in alcune situazioni che possono essere splendide come quella di questo set o meno, come capita nel film. Sicuramente con Luciano penso di condividere l'entusiasmo per la vita e per il cinema, che da sempre è una delle mie più grandi passioni. E poi invece biograficamente condivido con lui la mia entrata nel mondo del cinema, insomma in questo mondo a questa età, insomma. Anche per me, come per Luciano, era la prima esperienza, la prima volta a Roma e quindi c'è tutto l'entusiasmo, la paura e l'eccitazione. Anche questo carattere, a vederti dire di sì, anche questo carattere così estroverso, così sempre affamato di novità, di cose? Sì, dipende, dipende. Dipende con chi sono, sono un pochino più, forse a volte più riservato, anche un po' più pigro, lui è molto attivo, però effettivamente anch'io sono abbastanza... Diciamo che, ovviamente, penso che posso dire per tutti e tre che abbiamo individuato quell'elemento dei nostri caratteri come attori, come persone, che ci serviva e che noi abbiamo e l'abbiamo un po' coltivato, fatto crescere, trasformato per adattarsi in quella forma bellissima della sceneggiatura, insomma. Che è il mestiere dell'attore, eh? Sì, diciamo che è anche bello fare un personaggio molto molto scostante, però penso che anche nei personaggi più diversi bisogna trovare una chiave personale di riportarli. Quindi, per esempio, dico anche dal mio punto di vista, è stato abbastanza difficile perché io e Eugenia non abbiamo così tanti aspetti in comune. Però, appunto, quest'occhio curioso è stata la mia chiave per raccontarla, quindi sì. Allora, Paolo Virzi è noto anche per essere una sorta di pigmalione in certi casi, no? Lui mi ha specificato prima, non in tutti, parliamo, non so, di Corrado Fortuna, di Matilde Gioli. Quindi, voi che siete stati, appunto, catapultati come prima grande prova cinematografica in un film di Paolo Virzi, vi sentite un po' baciati dalla fortuna? Sperate, insomma, che sia un grosso trampolino di lancio come è stato per l'ora? Saremmo degli stupidi a risponderti che non è così. Sì, ci siamo... Io non solo mi sento baciato dalla fortuna, io sono profondamente grato a Paolo, alla produzione, perché questa è un'occasione, soprattutto, che io desideravo da tanto tempo, perché, forse a differenza di Irene e di Giovanni, facevo teatro da un po' più di tempo, quindi magari guardavo al cinema come un desiderio che c'era in me, quindi sono a mille. Sì, ho avuto un momento di... Diciamo che comunque uno cerca sempre di mantenere i piedi per terra, in un certo senso che ovviamente il nostro cuore, diciamo, ovviamente non ci aspettiamo, però un po' abbiamo questa speranza e comunque io, per esempio, l'esempio di Matilde Gioli, e me l'hanno detto tutti quanti, ogni volta quando io, appunto, dicevo che era stata scelta, tutti mi facevano il suo nome, però allo stesso tempo io ho scelto anche di intapendere un percorso universitario e di rimanere, appunto, con i piedi per terra, nel senso di... Avere un piano B? No, è un piano A. Sì, ti voglio. Io ho due piani A, non ho piani B. Hai capito? Bene. Sì, è stato... Cioè, baciati nella fortuna, ma non nel senso che questo ci porterà, si spera, però non è detto che ci porterà, questo lo vedremo soltanto vivendo, ma baciati nella fortuna perché è proprio un regalo, c'è la cosa bella di questo mestiere, che secondo me non sono lavori quelli che uno fa, ma sono proprio regali unici e ripetibili. Appassionarsi alle persone. Sono degli assassini, non ho ammazzato loro. Sono immagini che non avremmo mai voluto commentare. E chi sei? Nel film mi chiamo Giussi, sono una ex ragazza coccodè del programma Dietro Tutta di Renzo Arbore, caduta un po' in disgrazia, fidanzata con il produttore Leandro Saponaro, interpretato da Giancarlo Giannini. Come ti è sembrato questo ruolo, soprattutto questo film con cui Virzi celebra in qualche modo il cinema, lui ha detto è un atto d'amore? Sì, io il film lo amo, mi è piaciuto tantissimo, è uno di quei film che ti rimane addosso, con un'atmosfera forte che ci appartiene, racconta di qualcosa che in qualche modo abbiamo attraversato, che abbiamo sulla pelle in Italia, non lo so, racconta qualcosa di molto italiano, io ho avuto questa sensazione di qualcosa che ci appartiene e è stato bellissimo girarlo, è stato veramente un regalo poter lavorare con Paolo Virzi, con questo ruolo così disperato e ironico nello stesso tempo. Mi piace di tanto. Che differenza vedi tra il cinema, quello raccontato da Virzi, il cinema del 1990, quindi in qualche modo gli anni 80, e il cinema italiano di oggi, quello che ti ricordi ovviamente? Ma, sinceramente io, oggi tutto il giorno che chiedono anni 90, anni 80, oggi, io non riesco tanto a fare questa distinzione, perché non sono... riesco solo a fare la distinzione fra i film che mi sono piaciuti, che non dimenticherò mai, e che appartengono a tutte le epoche, comprese all'epoca di oggi, e i film che invece ho dimenticato, che non mi sono interessati. Dove ti vedremo prossimamente? In televisione o di nuovo sul grande schermo? Ho girato un altro film che uscirà però nel 2019, credo nei primi mesi, ancora non so, la data che si chiama Palloncini, siamo tutti un gruppo di attori, c'è Anna Foglietta, Paolo Calabresi, Lucia Mascino, Anna Radonicic, è stato bellissimo girarlo, sono felicissima, non vedo l'ora che esca. Qual è il tuo ruolo? Anna Foglietta ci ha detto qualcosa? Siamo tutte madri e padri di figli di circa otto anni, che si ritrovano alla festa di compleanno del figlio di Anna Foglietta, e mentre i bambini giocano nell'altra stanza, noi andiamo degenerando in cucina, o piuttosto che anche in sale, in giro per la casa, la situazione va degenerando nei rapporti tra di noi, e è stato proprio bello girarlo, quindi sono contenta. Grazie Maria. Grazie mille. E perché proprio quella notte del 90, quando l'Italia fu buttata fuori dei mondiali dell'Argentina? Questa è un'invenzione narrativa, che però mi sembrava carina, cioè proprio mentre tutta l'Italia sta appiccicata al televisore, vola una macchina giù da Ponte Carivaldi con un cadavere a bordo, ecco questa cosa è la buffa, per rendere anche, per far camminare queste storie personali, a fianco alla storia del paese, dal momento che i mondiali di calcio in quell'anno fuori un evento storico.